Seconda parte di Polifemo, trattiamo delle problematiche di natura occupazionale. La questione ILVA è in realtà il problema dei problemi, non solo con riferimento alla situazione ambientale, alla situazione occupazionale di oggi, ma considerando anche gli sviluppi futuri, le strategie. Siamo qui in compagnia, siamo nella sede dell'USB a Talsano, con il coordinatore provinciale Franco Rizzo. Rizzo, intanto tracciamo un po' il bilancio della situazione attuale, perché più di qualcuno dice, ci troviamo dinanzi ad un Titanic che gradualmente, ma mica tanto, con una certa velocità, prende acqua e si inabissa. Quali le strategie? E poi anche capire i rapporti tra la vostra forza sindacale e le altre, e la triplice, chiamiamola così. Sì, anche la Wilma ha preso posizioni, perché poi io da osservatore esterno mi pongo la domanda, ma queste forze sindacali solo ora si svegliano e si rendono conto della situazione? Per 20-30 anni, quando Berta Filava, dove stavano? Sì, la situazione è ormai un punto di svolta, è bene pure ribadire, completamente negativo. Negativo perché, oltre a tutte quelle garanzie che il governo a voce ha dato rispetto alla riqualificazione dello stabilimento, alla famosa ambientalizzazione, al rilancio del settore siderurgico a Taranto, partendo dall'Iva di Taranto, oggi abbiamo di fronte il fatto che il governo tira il rima in barca, allunga gli altri sei mesi con l'ultimo decreto Laia e emette un mando di vendita che si deve perfezionare entro i sei mesi, sapendo che sarà praticamente impossibile trovare un acquirente per lo stabilimento e quindi qualcuno disposto ad acquistare uno stabilimento che è in quelle condizioni e soprattutto uno stabilimento dove ci vogliono miliardi di euro per poter attuare quello che... Per lei, dice, trovare un acquirente dovrebbe essere un acquirente pazzo, un privato pazzo, un emiro ubriaco? No, allora mi spiego. Uno che acquista non lo troveranno. Uno che prenderà lo stabilimento del stabilimento regalo, già ce l'hanno. Io credo che sia questa la soluzione. E probabilmente col senno di poi ci spieghiamo anche cosa serviva il commissariamento fatto così come è stato fatto negli ultimi due anni all'Iva di Taranto. La Costituzione prevede che, la legge in Italia prevede che il commissario ha il compito di prendere aziende in crisi e cercare di risollevarle. Qui in quasi tre anni di commissariamento in realtà è accaduto l'opposto, hanno preso un'azienda che era in crisi e l'hanno completamente affossata. Cioè hanno creato un'autostrada, il terreno giusto per l'X privato che può essere italiano piuttosto che straniero affinché possa venire qui e dire sostanzialmente guarda lo stabilimento sì ma in queste condizioni, a queste condizioni. Cioè io lo posso prendere lo stabilimento ma a queste condizioni. Le condizioni quali sono? Io non credo che esiste un privato sulla faccia della terra che verrà a Taranto a dire sì ci spendo io i 3-4 miliardi per l'ambientalizzazione. Ecco perché noi da sempre sosteniamo la nazionalizzazione perché abbiamo sempre detto che l'unico che potrebbe garantire se lo vuole è lo Stato perché lo Stato ha le risorse per poterlo fare. È chiaro che sulla scorta di quello che è successo a Piombino o in altre aziende in giro per l'Italia, vede il caso all'Italia, il privato sostanzialmente perché si dovrebbe accollare 12.000 lavoratori diretti, 11.000 e 3 quello che siamo più quello che rimane dell'appalto solo all'Iva di Taranto perché poi non dimentichiamolo c'è Ilva di Genova con annesso accordo di programma con circa 4-500 lavoratori fuori in questo momento allo stabilimento e poi gli altri siti Ilva più piccoli. E per quale motivo dovrebbe venire un privato, spendere un sacco di soldi con un'azienda che tra l'altro per metà è ancora sequestrata nelle mani della magistratura. Ma anche come logica, se io non capisco a un certo punto che senso ha avuto togliere lo stabilimento dalle mani di un privato per restituirle ai privati, in una condizione che è addirittura peggiore rispetto a quella del 2012, quando è iniziata la storia. Allora, noi sosteniamo che lo Stato debba garantire comunque di portare avanti quelle che sono le linee guida che gli stessi ha tracciato rispetto all'Ilva, garantendo l'occupazione dei lavoratori perché non vogliamo che si presenti qui qualcuno come gli algerini della Cevital a Piombino che sono arrivati e hanno chiesto ai lavoratori sacrifici perché lo stipendio era troppo alto e gli hanno decurtato il reddito di circa 5.000 euro all'anno. Poi hanno detto che vogliono riconvertire le produzioni a caldo, hanno chiuso l'aria a caldo con la promessa di rifare i forni elettrici. I forni elettrici ad oggi sono ancora un miraggio. Nel complesso gli algerini sono spariti ma si sono impadroniti dell'area portuale di Piombino. Ecco, Taranto a un certo punto deve evitare che questa sia la condizione che la nostra città e i lavoratori di quello stabilimento possono subire. Ecco Rizzo, dicevo nella premessa all'inizio della nostra chiacchierata i rapporti con le altre forze sindacali. Quando io sento certe posizioni della CGL, della CISA, della UIL, io mi domando ma solo ora si svegliano? Senti, ecco, loro hanno avuto una posizione classica, attendiamo, 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 attendiamo. Hanno difeso il governo e hanno difeso i commissari. Ora sterzata, virata a 360 gradi, troppo comodo, no? Sì, diciamo che se devo dare un'impressione personale è chiaro che non abbiamo condiviso la linea e non l'ho portata avanti, semplicemente perché a un certo punto era chiaro a tutti, noi abbiamo fatto due anni di denunce sulla gestione commissariale, dicendo attenzione. Questi sono venuti qua con il compito di rilanciare lo stabilimento, di tutelare la salute, questi invece stanno assumendo manager strapagati dalle dubbie qualità, dalla dubbia utilità, gente che non ha messo piede per una sola volta nello stabilimento del IVA di Taranto e che percepisce stipendi da Nebabi, mentre i lavoratori sostanzialmente, i lavoratori del IVA sono stati condannati a diminuzione del reddito sensibili tramite i contratti di solidarietà. Allora tutto questo, tutto quello che è accaduto e non ultimo, la riforma degli ammortizzatori sociali è successa l'anno scorso con il Job Act. Anche lì c'è stata una riforma degli ammortizzatori sociali, i contratti di solidarietà sono diventati una causale della cassa integrazione, per dirlo a parole nostre, è stato chiuparato l'assegno di cassa integrazione a quello di solidarietà, cioè tradotto in italiano, a differenza degli ultimi anni, i lavoratori che andranno in solidarietà a partire da marzo vedranno decurtato sensibilmente di almeno 250-300 euro mensili, tutto compreso, il proprio reddito. Perché? Perché grazie a questa nuova normativa non maturiamo più sostanzialmente né la tredicesima, né la quattordicesima, né i premi che prima maturavamo in quota parte con il 70% con i contatti di solidarietà. Cioè si è lasciato fare tutto al governo, ma tutte le cose che sono state fatte paradossalmente sono andate contro quello che era uno degli obiettivi, non la tutela dell'occupazione, ma la tutela del reddito delle persone. Ad oggi, io lo dico onestamente, noi non siamo nelle condizioni di chiamare lo stabilimento a portarlo fuori a Roma o di fermare tutto, perché la gente, come dire, ci saranno quelli che ci seguono, ma ci saranno anche quelli che diffidano di noi. Ma nella stessa condizione sono anche Finfiumo Wilm. Noi abbiamo più volte fatto una proposta. Noi abbiamo detto che qualsiasi sindacato, che sia USB, Finfiumo Wilm, per andare di fronte al governo, comunque deve ricevere il mandato dei lavoratori. La proposta che le abbiamo fatto più volte e che le abbiamo rinnovate in questi giorni è anche su posizioni diverse. Noi con la nazionalizzazione, qualcun altro con la vendita ai privati e qualcun altro paradossalmente con altre posizioni ancora diverse rispetto alle nostre. Andiamo dai lavoratori, discutiamolo con i lavoratori e poi devono essere i lavoratori che devono indicare al sindacato che tipo di posizione deve prendere. Cioè quindi rendiamo partecipi ai lavoratori di quello che sta accadendo, perché è l'assurdità della situazione ILVA che si continuano a fare, travoli di trattativa, ma i lavoratori quello che apprendono, l'apprendono tramite i giornali, tramite qualche volantino che scriviamo noi. Cioè non si riesce a fare da tre anni un'assemblea unitaria per dire le cose stanno così, decidiamo che cosa dobbiamo fare. Crede in un'apertura da parte di Finfiumo Wilm? O è solo una sorta di propaganda che vogliono fare un... qualcuno potrebbe dire con un'espressione un po' forte, un po' cattivella, rifarsi una verginità? Senti, io credo che la situazione è diventata talmente grave, irreversibile praticamente, che a un certo punto non possiamo, neanche noi, neanche io, con il compito che svolgo all'interno, con il ruolo che occupo all'interno della OSB, non possiamo pensare di ragionare se è un bene per la mia organizzazione o per le altre prendere determinate posizioni. Io credo che il bene primario da tutelare è la salute appresso all'occupazione dei lavoratori e credo che solo un sano confronto con i lavoratori, anche prendendo, come dire, insulti... Schiaffi in faccia, tra virgolette, in senso metaforico. È l'unica cosa che può consentire a tutto il sindacato di andare lì, di prendere una posizione unitaria e magari non solo al sindacato, anche alla politica. Perché guardate, l'assurdità di Taranto, che a me è apparsa in tutta la sua assurdità, è nel momento in cui la vado a paragonare con Piombino, con siti come Piombino. Io sono stato lì qualche settimana fa, ho incontrato alcuni lavoratori dello stabilimento di Piombino, poi ho incontrato membri di associazioni ambientaliste di Piombino, c'era, se non sbaglio, il presidente di Legamento della zona di Piombino. C'era una varietà al tavolo di persone che a Taranto, come dire, paradossalmente, sono su posizioni completamente distanti. Ma lì, a un certo punto, l'analisi era, guardate, qui siamo arrivati al punto che non si è tutelata né la salute, adesso si perde anche il lavoro, i commercianti chiudono i negozi, cioè si è creata una condizione che è la peggiore per la città. Ecco, sulla scorta di quello, io dico con un certo punto, il ragionamento del sindacato deve andare dai lavoratori, parlare, avere il mandato e agire secondo quello che è il mandato dei lavoratori. La politica deve parare un progetto, un progetto che deve essere finalizzato poi sostanzialmente a ridare splendore a questa città. Un ultimo aspetto, ci sono state molte polemiche, anche delle critiche, per così dire, contraddittorie da parte delle forze di governo, dei nostri parlamentari, nei confronti dei commissari, ma fino a prova contraria, i commissari non sono stati nominati dallo Spirito Santo, ma sono stati nominati dal governo. E' una contraddizione in termini. Questa storia è piena di contraddizioni. La cosa più... Ecco, io adesso qua c'è il computer, se vuoi ti apro e ti faccio vedere quante decine e decine di volantini abbiamo dato davanti alla fabbrica, quante decine di comunità di stampa che sono stati fatti per denunciare le carenze della gestione commissariale. Di a un certo punto, uno siamo rimasti completamente inascoltati da questi signori della politica nazionale, che sono coloro che decidono. Due, abbiamo lanciato diversi campanelli d'allarme dicendo attenzione perché se si continua così c'è solo il baratro. Tre, siamo rimasti allibiti quando abbiamo scoperto che una mattina, di colpo, dopo per due anni e mezzo, come dire, tutti facevano finta di non sentire e di non sapere, di colpo diverse forze sindacali, ma soprattutto anche la politica stessa, che ha votato quei decreti tra l'altro, ce ne sono diversi parlamentari che fino al giorno prima non hanno dato i commissari, di colpo la mattina si sono alzati e non cominciate a dire che la gestione commissariale era fallimentare. Cioè, il paradosso è che adesso diverse voci in campo sostengono quello che noi abbiamo sostenuto negli ultimi tre anni. Un ultimissimo aspetto, avevo detto che quella era l'ultima domanda. Qualcuno vi ha criticati dicendo ma ci sono delle posizioni, c'è una certa vicinanza dell'USB ai 5 Stelle. Cosa replica? Senti, l'USB è un sindacato. Il Movimento 5 Stelle è un movimento. Così come il PD è un partito politico, così come Rifondazione Comunista è un altro partito politico. Io dico solamente una cosa. Noi la tessera dei partiti, quando facciamo l'iscrizione a lavoratore, non gliele chiediamo. Ognuno ha le sue convinzioni politiche. Ognuno ha le sue idee. Io credo solamente che stare con il Movimento 5 Stelle e essere iscritto all'USB non è contraddittorio, così come non è contraddittorio stare con Rifondazione e stare con l'USB o come quelle centinaia e centinaia di casi che abbiamo nello stabilimento di gente che vuote il Movimento e iscritto con la UEM. Queste sono scuse che a un certo punto si vanno ricercando da parte sindacale per poter giustificare le divisioni che sono in campo. Un fatto vero c'è rispetto alla politica. Io credo che il sindacato debba dialogare con la politica. Però la politica a un certo punto, e non mi riferisco in questo momento ai 5 Stelle, perché di tutto gli posso dire, però sono a Taranto quantomeno un movimento che ha ascoltato quelle che sono state le denunce, le tantissime denunce fatte da l'USB. Io mi riferisco a quella politica che siede nei salotti del Parlamento, quella politica che decide che a un certo punto è volutamente essere sorda rispetto a tutto quello che abbiamo detto. Così non si va da nessuna parte. Sembra anche che dietro certe posizioni di alcune forze sindacali, penso alla UEM, sembra quasi che ci sia, questa è un'ipotesi, un'impressione che io ho tratto, una regia del PD, di qualche, in senso politico, tra virgolette, noto puparo del PD. Senti, io non lo so se è così. Io spero per tutto il sindacato che non sia così. Sì, onestamente. È chiaro che a un certo punto il dubbio viene rispetto al fatto che comunque il PD e il Partito del Governo, è colui che sostanzialmente ha varato tutti i decreti. Ed è, come dire, è strana questa simbiosi che nel momento in cui alcuni parlamentari tarantini che per 25 mesi hanno votato decreti che noi abbiamo criticato, hanno lodato le gestioni commissariali e l'hanno fatto di pari passo con queste organizzazioni, nello stesso periodo, quindi verso fine settembre, inizio ottobre del 2015, iniziano ad avere una posizione entrambi completamente diversa e di critica nei confronti dei commissari. Diciamo che il dubbio mi è venuto, mi è venuto sì. E così ci congediamo. Uno più uno fa due e non portiamo certo l'anello al naso. Lo si capisce, no? Io ti ripeto, per il bene dei lavoratori credo che il sindacato debba essere qualcosa di diverso dalla politica. Fare politica, ecco, fare politica è un compito, fatta in una certa maniera per il bene dei cittadini, è un compito, come dire, importante. E il sindacato deve fare il sindacato, non guardando i partiti. Probabilmente il sindacato in Italia oggi si è ridotto ad essere non una controparte del lavoro, ma quasi, come dire, qualcosa di trasparente, di invisibile, che se non c'è è meglio, proprio in funzione del fatto che per troppi anni è diventato, come dire, il bacino della politica e quindi quasi come il menestrello della politica stessa. Bene, termina qui la nostra lunga chiacchierata con Franco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Come detto, questa seconda parte di Polifemo è incentrata sulle problematiche occupazionali. Ora ce ne andiamo in pubblicità, poi al rientro affronteremo una situazione spinosa, quella dei lavoratori delle ditte di pulizia all'interno dell'AMAT, quelli che, per capirci, si occupano innanzitutto della pulizia dei nostri autobus e quindi sentiremo a tal proposito il coordinatore dei Cobas, Salvatore Stasi. Andiamo in pubblicità. Tecnologia, professionalità e strumentazioni all'avanguardia. L'Istituto di istruzione secondaria superiore Archimede di Taranto offre per l'area professionale i seguenti indirizzi manutenzione ed assistenza tecnica, produzioni industriali ed artigianali e per l'area tecnica, trasporti e logistica, ex nautico, informatica, elettronica ed elettrotecnica. Per informazioni rivolgersi all'Istituto Archimede, via Lago di Trasimeno 10, Taranto, telefono 099-776-2730. Siamo presso l'Istituto di istruzione secondaria superiore Archimede di Taranto e siamo in compagnia di un rappresentante d'Istituto, Antonio Conte. Allora Antonio, parlaci della tua scuola. La nostra scuola, l'ISS Archimede di Taranto, prepara il ragazzo sotto il punto di vista lavorativo attraverso corsi altamente formativi e anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro che, a differenza dalle altre scuole, prepara il ragazzo direttamente nel mondo del lavoro, interfacciandoci con le aziende principali della provincia, regionali ma anche nazionali. Ecco, questo non è uno spot, un qualcosa di propagandistico, ma è un qualcosa che vuol far davvero comprendere l'importanza della formazione che si fa presso l'Archimede. Certo, questo non lo diciamo noi, ma sono i dati che sono risultati dagli ultimi anni, in quanto una buona parte dei ragazzi che si sono diplomati da questa scuola hanno trovato appunto lavoro nell'ambito regionale, provinciale ma anche nazionale, in grandi aziende nazionali. Ecco, è importante anche il rapporto umano, c'è un bel rapporto con il personale docente. Certo, noi la scuola la viviamo come una famiglia perché passiamo la maggior parte del tempo qui, quindi il rapporto è altamente sociale anche con i professori. Antonio, tu che anno frequenti? Io frequento il quarto anno di questo istituto. Quindi siamo vicini all'ultimo anno e poi all'immissione nel mondo del lavoro? Certo. Con quali aspettative, con quali prospettive? Io personalmente frequento il corso nautico e alla fine dei miei studi riceverò un titolo che ho quale l'ufficiale di coperta, all'ivo ufficiale di coperta e grazie ai miei professori spero e anche all'artenenza scuola di lavoro che mi interfaccia nell'ambito marinaresco spero di trovare lavoro appunto nella marina mercantile. Antonio, siamo alla conclusione della nostra chiacchierata con una sola espressione perché iscriversi all'Archimede? Perché questa è la scuola giusta per trovare lavoro. Bianconeri, sulle scelte, la fortuna nuve! La nuve è fede, amore e passione. Segue con noi Bianconeri con lo Juventus Club di Lizzano. Vieni a vedere con noi Juventus Napoli. Sabato, 13 febbraio, ore 20.45, 25esima giornata di campionato. Viaggio, andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni Juventus Club Lizzano, piazza Matteotti, Lizzano. Per contatti telefonici Antonio 348 80 888 03 Cristian 349 68 000 66 Giuseppe 347 041 76 23 E sempre Forza Juve sino alla fine! Gruppo Appia Viaggi Sede centrale di Taranto Via Dante 170 Telefono 099 479 24 90 Ultimi posti Pellegrinaggio all'Urd Dal 10 al 12 febbraio 2016 Volo speciale diretto da Bari Navetta da Taranto a Bari andata e ritorno Quota di partecipazione a partire da Euro 570 a persona 10 febbraio, ore 7 Trasferimento riservato in Pullman da Taranto all'aeroporto di Bari Ore 9 Partenza con volo speciale diretto per Lourdes Il rientro Partenza per Bari giorno 12 alle ore 18 ed arrivo e trasferimento riservato in Pullman per Taranto alle ore 20 e 20 Ultimi posti Affrettati a prenotare! Autocarrozzeria 3C Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile Autocarrozzeria 3C e anche officina Vi aspettiamo in corso a Nibale a Taranto Ci occupiamo delle tante piaghe occupazionali che, è il caso di dire, usiamo questa espressione forte, ammorbano la realtà ionica Esistono i grandi casi, i grossi casi, quelli dell'Ilva ma anche quelli di Isola Verde E ci sono delle situazioni che però non vanno sottaciute Mi riferisco in modo particolare alla questione relativa alle ditte che operano nell'ambito dei servizi di pulizia per l'AMAT E abbiamo Salvatore Stasi che è il coordinatore provinciale di Taranto dei Cobas Allora, Stasi, diciamolo in termini molto semplici affinché gli amici da casa possano comprendere tutto così Possiamo fare un excursus della vicenda La pulizia all'interno degli autobus dell'AMAT viene svolta da determinate ditte Le ditte ovviamente svolgono questo servizio a seguito di una gara di appalto Ora si è tenuta una nuova gara, c'è stato un vincitore Mi sembra di capire che la ditta che si è insediata abbia chiesto una riduzione del personale Pare che questa stessa ditta si sia fatta da parte, quindi ne debba subentrare un'altra Si è parlato di pressioni forti subite da questa ditta al punto tale che la stessa ha lasciato l'incarico Ha lasciato ciò che aveva vinto e quindi facciamo un po' il punto della situazione Io partirei dall'ultima parte del tuo intervento Cioè dal fatto che la ditta dice, lo dice in una lettera ufficiale Con la quale afferma di aver avuto pressioni Insomma fa sottintendere anche qualcosa di peggio se vogliamo Bene, allora innanzitutto io sono qui per smentire categoricamente questa affermazione che è totalmente falsa Innanzitutto questa ditta che arriva da Milano l'abbiamo potuta incontrare Diciamo in quella che è la procedura quando c'è un cambio di appalto Presso la locale direzione provinciale del lavoro C'erano funzionari del ministero del lavoro Quali potrebbero comunque testimoniare che questi qua non hanno avuto alcuna pressione Certamente come organizzazione sindacale noi abbiamo rivendicato il diritto Previsto dall'articolo 4,1 della legge dei contratti collettivi nazionali riguardanti il pulimento Che avrebbero dovuto prendere i lavoratori esattamente alle stesse condizioni Tutti e alle stesse condizioni Noi abbiamo fatto il lavoro di quello che deve fare un sindacato Cioè deve salvaguardare Tutelare le unità occupazionali In pratica la ditta ha detto Io posso mantenere tot unità Però ci dovrebbe essere una clausola di salvaguardia Esattamente Però diciamo che tutto parte da un appalto A nostro parere Fatto abbastanza con i piedi Mi spiego Quando ad inizio dell'anno scorso Abbiamo letto questa gara Uscita in internet ovviamente Ci siamo immediatamente resi conto Che rispetto alle unità lavorative 30 persone E rispetto a quello che loro hanno indicato come Monteore 24.000 ore Ci sarebbero stati degli esuberi Ci sarebbero stati un 60-70% degli esuberi Già era individuata questa cosa Quindi con quanti dipendenti si sarebbe rimasti Noi avevano dovuto continuare 13-14 Al massimo proprio a volerla fare alla grande O a limite Diminuire le ore proporzionalmente Un part time No, questi sono già Part time del part time Part time del part time Il vero è che buona parte sono a 5 ore Ci sono delle persone, dei lavoratori, dei lavoratrici Che stanno a 2 ore Quanto prendono? 300 euro al mese? 150, 200, secondo insomma Quello è alla fine della fiera Ma è grave perché Come dire All'epoca noi ci mettiamo già subito in presidio Individuando le criticità E denunciando sia rispetto l'AMAT Sia rispetto il proprietario Che il comune di Taranto Come dire Questo tipo di criticità Perché questa situazione Qualcuno dice che si è gonfiata nel tempo Non è affatto Stasi mi permetto di dire Non sarebbe stato opportuno Che Quando è stato fatto il bando di gara L'AMAT Avesse previsto Nel bando di gara Che Chi voleva concorrere Doveva mantenere quelle unità Questo è stato forse il problema Il difetto La zoppia iniziale La zoppia esattamente come la definisci tu E come noi l'abbiamo definita Esattamente all'interno dell'appalto Perché fra l'altro Anche negli anni scorsi Solo perché allo Stato C'è una cooperativa sociale Che si chiama l'Ancora Magari Anche se ha perso qualcosa Siccome è una cooperativa sociale Quindi È Per soggetti svantaggiati Ha cercato di mantenere Ma Io ho chiesto All'epoca Come ho ridetto In questi giorni In questi nove lunghi mesi In cui Questo anno circa Nel quale Questa vicenda Fra l'altro Sembrava morta Perché improvvisamente Sono venuti fuori Con la giudicazione Bene Noi l'abbiamo detto chiaramente Abbiamo fatto dei paralleli Molto semplici In una città come Bari Parliamo Neanche 100 km da Taranto Per gli stessi servizi Che in una città come Bari Magari Possono essere considerati Raddoppiati Però li mettono A gara d'appalto Il quadruplo della somma Che è stata messa qua Tutto nasce da questo Poi c'è un altro problema La Quindi questa ditta Che vince la gara Si ritira Perché Dichiara Denuncia Pressioni A nostro avviso Inesistenti Ma al di là di questo Ne dovrebbe subentrare Un'altra Non sappiamo Questa cosa farà Se anche questa Si dovesse tirare indietro Mi pare che il presidente Dell'AMAT Walter Poggi Ci abbia detto Ci vedremo costretti A internalizzare il servizio Il che significa Andrete tutti a casa A spasso Perché il servizio Viene internalizzato E gli esterni Non ci sono più Allora Bene Mi dai proprio lo spunto L'assist Esatto Un bel lassi Per fare un gol A porta vuota Sostanzialmente Perché oltre a quello Che ti dicevo prima Sulle risorse Come dire Che andavano Assolutamente Messe in campo Il problema Il problema è Ripeto In quella Zoppia Dell'appalto Ma Questa questione Delle cosiddette Pressioni È stata usata In modo Veramente Inopportuno Ecco Non voglio Usare un euferismo Non dice strumentale Dice inopportuno Dico perlomeno Inopportuno No? Sostanzialmente Per fare delle pressioni Sui lavoratori Qualche maligno Dice La ditta Si è resa conto Che non ce la faceva E ha trovato La pezza a colore Questo dicono i maligni No io sono assolutamente D'accordo Perché quando loro Sono venuti lì in DPL Hanno chiesto Ah voi non pulite Solamente i pullman Ah fate anche Quest'altro servizio Ah fate anche Gli uffici Ah fate anche qui Ah fate anche Come se non sapessero A cosa si trovavano davanti Esatto ma dove scendete Insomma Dalle Alpi Da dove arrivate Scusate Non lo sapete leggere La parola Lo chiedevano lì Seduta a stante Quindi E' evidente Che si sono trovati Palesemente in difficoltà Ma la cosa più grave In tutto questo Che l'AMAT Ha utilizzato Questa storia Delle pressioni Ripeto In modo veramente Anche questo Lo definisco Eufemisticamente Inopportuno Se non veramente Ultra strumentale Per dire cosa Dice va bene Così stiamo Questi si ritirano Allora innanzitutto Io dico Questi signori Potevano andare Alla magistratura C'erano le forze Dell'ordine Come sempre C'è quando c'è un presidio E potevano dire Guardate ci stanno facendo Pressioni Per esempio Cioè questo è uno Stato di diritto Questa è la normalità D'accordo? E non che si scrive Su una lettera E noi ci ritiriamo Per questo motivo Tu continui E denunci Le eventuali pressioni Mi fai chiudere Per piacere Questo è importantissimo Invece cosa fa L'AM Non solo Come dire Mette il carico Da 100 Sulla questione Delle pressioni Ma dice addirittura E questo io lo chiamo Ricatto In termini occupazionali Sostanzialmente Se le altre due Non accetteranno Internalizziamo il servizio Qui io pongo Due problemi Uno Chi lo deve fare Questo servizio Perché chi parla di questo Non sa due cose Quanto sia Veramente Faticoso Quel servizio Che fanno Quei lavoratori E buona parte Dei lavoratori Dell'AMAT Quelli che almeno Rimangono lì E' gente che già Ha delle problematiche Fisiche Per causa di lavoro Quindi non lo potrà Mai fare Sostanzialmente Seconda parte Più grave Scusa e chiudo E' una forma Di pressione Questa si impropria Ne riguardi I lavoratori O mangiate Saminestro O vi buttate Alla finestra Se no ve ne andate Tutti a casa Ecco Un po' come fa L'ILVA Quando mandava Le letterine Le stesse I ricatti Occupazionali A questo punto Al momento Cosa Lei prevede Che potrebbe accadere Allora Noi ovviamente Aspettiamo Passi futuri L'evoluzione Della situazione Però rispetto a questo Lui l'altro giorno Venerdì Siamo stati chiamati In quel momento Ci è stato comunicato Il fatto che l'azienda Veniva via Abbiamo fatto un incontro Con il management Dell'AMAT E il sindaco In qualità di proprietà Insomma Chiaramente noi abbiamo detto È normale che come organizzazione sindacale Noi non possiamo accettare questo Ed è evidente che comunque Qui va garantito comunque Il posto di lavoro A tutti questi lavoratori Alle stesse condizioni Se lì non basta Dobbiamo vedere Di sistemare Da un'altra parte Non solo Ma io gli ho chiesto E gli chiedo ancora oggi Attraverso questi canali Ma voi siete veramente convinti Che con 15 persone Riuscite a pulire 60 70 pullman Non ci lamentiamo Che gli autobus Sono sporchi Ecco Un'ultima cosa In tutta questa vicenda Dovrebbe esserci Un regista Cioè Dovrebbe esserci Un soggetto Preposto a tutto Che è l'ente comune Di Taranto Perché Amat e Amiu Sono due partecipate E due realtà Due braccio operativi Del comune Il sindaco Stefano Sembra essere sparito In questa vicenda O no? È arrivato Diciamo In ultimo Quando è successo Questo fatto Cosa dice? Lui ha detto Vedremo di garantire I posti di lavoro Dice sempre vedremo A tutti Vedremo di garantire I posti di lavoro Io dico Siccome C'è una serie di mail Inviate Non solo Inviate a tutti quanti All'Amat Ripeto Che risalgono A mesi e mesi fa Per non andare indietro Negli anni Per dire Guardate che Quelle condizioni Porteranno Prima o poi A quella che noi Sindacalmente Definiamo una macelleria sociale Cioè significa Mandare a casa Buona parte dei lavoratori O come Allora io mi chiedo La governance Di questa città Che è proprietaria La governance Di questa città Che è proprietaria Allora Di che cosa parliamo? La governance Sei il proprietario? Bene Tu come dire In qualche modo Devi rispondere di questo Perché Faccio un parallelo Molto chiaro È vero che c'erano gli archi A che tu conosci bene E quanti altri Gli amministratori delegati No? Dell'ILVA Però 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 Chi è il proprietario? Riva Quello che Dava le direttive Ecco io Penso Che con lo stesso meccanismo Con tutta l'autonomia Che possa avere L'AMAT L'AMIU Però evidentemente Le linee politiche Le linee Diciamo Di come L'indirizzo L'indirizzo Ecco non mi viene la parola Grazie L'indirizzo politico Lo deve dare Chi è il proprietario L'indirizzo